amici e amiche bentrovati ad un nuovo episodio di gong il podcast di round 2 oggi registro in modalità single player perché fossa è impegnato con un press tour in uk a londra in particolare per un gioco del quale non vi posso fare il nome però è veramente uno dei dei big dei big di quest'anno e quindi presto potremo raccontarvi cose potrà raccontarvi ovviamente soprattutto lui ma bando alle ciance direi di parlare di due argomenti come sempre oggi ci focalizziamo sul nintendo direct di ieri grande showcase di nintendo in cui diciamo che la casa di super mario è andata in più direzioni con un evento da oltre 40 minuti decisamente importante e tocca anche fare un piccolo aggiornamento su call of dutiful ovvero il modo in cui ho ribattezzato la telenovela oramai tra microsoft e activision blizzard king per l'acquisizione appunto della stessa perché perché c'è qualcosa da dire sapete che noi non amiamo parlarne più di tanto perché appunto oramai è diventata una sopopera ma quando ci sono aggiornamenti importanti come quello che è arrivato nella giornata di ieri sicuramente è giusto tenerne conto ripartiamo però appunto da nintendo e da un direct che torna sulle scene con secondo me è un evento assolutamente molto molto ricco di contenuti rivolti anche a credo una tipologia di giocatori molto molto differente tra loro in generale si può dire subito questa cosa prima di entrare nello specifico di tutti gli annunci nintendo switch vive un momento di gloria quasi sempiterna c'è una leggera flessione nelle nelle vendite ma al netto di un hardware in leggera flessione fermo restando che i numeri che continuano a registrare sono fuori di testa c'è un software che stravende mario kart ha superato le 50 milioni di unità ma pensate che un titolo controverso come pokemon scarlato e violetto è a quota 20 milioni in appena sei settimane sintomo di quanto comunque sia proprio ancora in salute l'ecosistema della console ibrida di nintendo e a tal proposito lo stesso furukawa il presidente nintendo japan ha detto che la console si prepara ad avventurarsi in territori inesplorati per loro complice anche il fatto di appunto un ciclo di vita più lungo di quello preventivato inizialmente un riscontro clamoroso e delle condizioni particolari proprio in termini di mercato pensiamo a quanto sia di fatto per certi versi rimasta indietro no nintendo rispetto ai competitor eppure quanto come posso dire possa sia in grado di salpare delle acque estremamente agitate con il suo il suo modo ebbene dicono che l'idea allora è quella di continuare a supportare l'hardware farlo con una serie di uscite appunto molto diversificate che non accennano comunque a diminuire né nel numero direi né nell'intensità e a di fatto proporre edizioni diverse di nintendo switch pensiamo alla versione originale a quella light o al modello oled a pubblici leggermente diversi non c'è all'orizzonte assolutamente traccia di una possibile switch pro anzi un possibile perché maschile switch pro che in tanti desidererebbero mi metto tra quelli credo che a questo punto forse sia un po tardi per quello che è comunque il ciclo di vita della console che diciamolo ripeto non accenna ad esaurirsi ma diventa forse più probabile ipotizzare un successore per probabilmente la fine dell'anno prossimo l'inizio del 2025 una cosa del genere vedremo però quello che è stato già sicuramente discusso da nintendo è stata la line up dei prossimi mesi l'evento di ieri si è aperto con un momento per me da occhioni proprio a cuore come nei cartoni animati ovvero un approfondimento su pikmin 4 serie che io personalmente adoro come davvero poche altre non solo in orbita nintendo ma in assoluto è proprio un universo quello di pikmin che mi fa impazzire lo venero e mi diverte tantissimo anche a livello di gameplay con il suo mix bizzarro tra azione strategia gestione in tempo reale lo stile super cute ma anche assolutamente bizzarro tutto bellissimo e si conferma anche questo pikmin 4 gioco in realtà è sviluppo da tempo in memore che si era rivisto per la prima volta sorpresa qualche mese fa stavolta l'abbiamo visto per davvero con un piccolo annuncio a livello di presentazione è in totale continuità con pikmin 3 episodio pubblicato su wii e ripubblicato su nintendo switch in un'edizione che io vi consiglio fortemente pikmin 3 deluxe è veramente un capolavoro è un gioiello troppo spesso poco considerato e direi anche chiacchierato sul sulla console nintendo tipo di gameplay anche certo non per tutti però secondo me proprio nel suo essere così strano meriterebbe una chance questo pikmin 4 è da una parte appunto in grande continuità con il passato soprattutto a livello visivo mentre promette delle novità nella gestione dei pikmin che sono queste creature minuscole che al servizio di buffi alieni devono dare una mano a recuperare degli oggetti su pianeti vari ed eventuali e appunto si è vista l'introduzione di una tipologia di pikmin nuovo che sembra poter congelare l'acqua ma soprattutto di una specie di buffo cagnolone alieno ciccione simpaticissimo che può portarsi pikmin sulle spalle dando in là a meccaniche di gameplay tutte nuove pikmin 4 arriva abbastanza sorpresa il 21 di luglio più vicino secondo me del previsto ed è assolutamente uno dei titoli da tenere d'occhio direi per l'estate in generale e nello specifico ovviamente per quello che è il panorama di nintendo switch una sorpresa che è arrivata è stata la remastered di metroid prime già disponibile da ieri con shadow drop 40 euro arriva nei negozi anche a partire dal 3 di marzo invece molto particolare è il trattamento che nintendo ha scelto di dare a questa versione aggiornata e corretta di un classico epoca game cube prima di tutto se ne era parlato per anni addirittura si vociferava di una possibile trilogy in realtà è solo il primo episodio ma la cosa molto strana che è emersa con forza in particolare nelle ultime ore diciamo non molto sottolineata dalla stessa nintendo è che a dispetto del nome remastered hanno fatto un'operazione in realtà che sembra più che una remastered cioè una vera e propria riedizione del gioco un remake praticamente con miglioramenti netti vabbè ci sono nuovi sistemi di controllo è ok ma ci sono anche delle cose veramente notevoli dal punto di vista grafico che riguardano sia la mole poligonale sia le animazioni le texture ma addirittura la fisica di gioco tutte queste cose in realtà sono dettagli che sono emersi nelle successive ore con dei raffronti uno a uno fatti dagli utenti e che nintendo invece ha molto passato in sordina quasi come se di questo gioco cioè lo desse un po per scontato non gliene fregasse particolarmente il che è strano perché davvero si vociferava che dovesse uscire da tanto tempo forse hanno l'hanno rimandato anche internamente per troppo e quando si sono finalmente decisi a presentarlo l'hanno un po dato per scontato non lo so occhio perché l'originale è un capolavoro senza tempo e questa riedizione ripeto già disponibile in formato digitale potrebbe essere un modo per riscoprire una serie che ha qualche anno sulle spalle ma che in realtà ha fatto scuola anche dal punto di vista del game design altro gioco rimandato a lungo che è tornato a fare la sua comparsa è advance wars 1 più 2 bootcamp che è appunto una collection doveva essere pubblicata un anno fa per la precisione l'8 di aprile l'invasione dell'ucraina da parte della russia ha spinto nintendo a posticipare senza data diciamo l'arrivo del gioco che invece farà la sua comparsa il prossimo 21 di aprile è chiaro che purtroppo la guerra in ucraina non si è non si è risolta però diciamo che è un tema meno ricorrente dal punto di vista delle notizie eccetera eccetera e nintendo evidentemente ha scelto potesse essere il tempo e il modo per tornare a parlare di un prodotto che certo si focalizza su una guerra a cartoni animati però poteva essere molto indelicato all'epoca anche perché in advanced wars 2 c'è si parla di un'invasione di un paese che tipo con classica l'ambientazione invernale eccetera eccetera ci sarebbe stata un eco abbastanza abbastanza allarmante tra le altre cose che abbiamo visto vabbè forse la più così esplosiva è stata l'inclusione di gameboy gameboy advance all'interno del servizio online di nintendo che si arricchisce appunto di queste due console con tutta una serie di titoli che vanno da tetris super mario land links awakening gargoyle quest game and watch addirittura alone in the dark the new nightmare completamente random come cosa ne parlavo con francesco qualche puntata fa su twitch di alone in the dark di quando avevano cercato un po di rilanciare il franchise certo non pensavo di rivedermelo in versione gameboy advance su gameboy advance tra l'altro ci arrivano anche legend of zelda mini schcap super mario advance 4 c'è wario ware c'è kurukuru kururin gioco che adoro all'epoca veramente l'avevo divorato mario luigi superstar saga tante tante altre cose con anche all'orizzonte ci hanno parlato di pokemon training car game di metroid fusion di f0 di golden sun anche anche questo titolo mai dimenticato dai veri fan di nintendo altra sorpresa abbastanza random è stato un samba di amico annunciato per l'estate su nintendo switch così completamente a caso ci sono stati gli immancabili aggiornamenti per giochi già usciti ovvero l'espansione di xenoblade chronicles l'espansione di splatoon e il pacchetto di nuove piste di mario kart tutte molto interessanti ma ovviamente dedicate ad un pubblico già come dire focalizzato su quei prodotti fighissimo sea of stars che è ambientato cioè esce il 29 agosto scusate ed è degli esilpatori di the messenger sembra una roba meravigliosamente in stile chrono trigger quindi rpg epoca 16 bit ma moderno e davvero molto 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 poetico hanno annunciato anche ieri che era disponibile immediatamente con shadow drop la demo di octopat traveler 2 che arriva il 24 di febbraio sempre per parlare di rpg si è rivisto baionetta origins seresa and the lost demon che arriva il 17 marzo e che sembra uno strano una strana rivisitazione di baionetta anche in una chiave un po isometrica particolare con un sistema di controllo che a prima vista probabilmente splitta l'uso di baionetta sul joy con sinistro e di cescia e il gatto su quello destro pare proprio un concept strano da approfondire tra l'altro a livello artistico più lo vedo e più mi ricorda in qualche misura un gioco abbastanza sconosciuto che è il shaddai epoca playstation 3 e 360 era un action particolare in cel shading tutto colorato abbastanza abbastanza sopra le righe sempre in tema di giochi un po oscuri un po bizzarri che a sorpresa fanno la loro comparsa da segnalare il ritorno di ghost trick che arriva non solo su nintendo switch ma lì è stato presentato grande titolo per nintendo ds veramente bellissimo addirittura il 2010 torna anche katamari damashi con we roll katamari e non solo perché è abbastanza surreale anche il ritorno di batten kaitos che è una serie di vecchi giochi di ruolo per gamecube con le carte molto strani collection hd per quello e anche per i tre e tre nodisi altro gioco di nicchia molto giapponese molto particolare prima di arrivare alla chiusura su zelda impossibile non menzionare direi level 5 che torna sugli scudi con un capitolo di layton appena accennato ma assolutamente sorprendente perché era un personaggio che non si vedeva più da tempo si chiama professor layton and the new world of steam ma anche con deca police che è un ip nuova con uno stile molto nipponico a livello visivo ricordo un po danganronpa e sembra un mix tra un investigativo e un jrpg molto particolare che secondo me potrebbe assolutamente avere il suo pubblico siamo arrivati ovviamente alla chiusura che non poteva che essere dedicata a the legend of zelda tears of the kingdom gioco attesissimo che arriva a metà maggio il 12 se non ricordo male e che forse ci aspettavamo potesse essere un po più il fulcro dello show invece è stato relegato al classico diciamo one more thing con cui però l'evento si è chiuso alla grandissima un trailer da un paio di minuti in cui sono visti momenti di gioco vari ed eventuali ma soprattutto sono emerse delle cose importanti vabbè atmosfera ai massimi livelli e in generale una sensazione che possa rappresentare per breath of the wild quello che majora smask ha rappresentato per ocarina of time quindi un'idea di un episodio molto diretto come seguito ma anche parecchio differente nei toni e nei modi e anche discretamente originale dal punto di vista proprio delle meccaniche dei gameplay e in questo senso sono emerse due cose in particolare sviscerando un po il trailer la prima è la presenza di strane isole galleggianti in cielo ma tantissime come se i sacrari stavolta invece che essere a terra fossero per aria con link che attraverso un aliante e non solo può muoversi anche in cielo l'altra cosa invece molto 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 particolare oltre vabbè al braccio di link che in qualche maniera si corrompe e lui deve contenere da capire proprio cosa succede a livello di trama anche perché questo braccio sembra dargli dei poteri tutti nuovi è il fatto che si intravede una meccanica di interazione di costruzione di mezzi da zero completamente inedita per la serie che sembra avere delle suggestioni in stile banjo kazooie nuts and bolts titolo per xbox 360 in cui appunto nel mondo di banjo potevi costruiti dei veicoli strani tutti con la fisica e anche qui in effetti sembra essere proprio questo nuovo zelda basato sull'idea di recuperare degli elementi in giro per hyrule combinarli attraverso uno strano liquido verdastro che sembra essere davvero quasi onnipresente questo verde di un'energia strana è il tema del gioco e appunto agganciare per esempio delle ruote a una piattaforma aggiungerci una specie di motore e creare una macchina oppure creare una mongolfiera o creare un aliante cioè sembrano esserci tante possibilità lasciate all'utente spingendo ancora di più forse su quell'idea di emerging gameplay e di interazione fisica non scriptata che già si era ampiamente vista in breath of the wild le attese sono schizzate ovviamente alle stelle dopo questa cosa perché si pronuncia davvero come un titolo estremamente originale chissà se ne sapremo di più magari in un direct dedicato ma certo è che la chiusura è stata assolutamente col botto così come l'altro botto arriva e mi collego subito all'altra notizia l'altro botto arriva dall'inghilterra perché c'è stato un aggiornamento sulla querelle microsoft activision blizzard king l'acquisizione di cui si chiacchiera ormai da mesi e mesi si è espressa in particolare la competition and markets authority britannica abbreviazione cma cma ok che è uno dei principali enti di antitrust internazionali sappiamo che diciamo avevano in sospeso il loro verdetto ebbene ieri c'è stato un aggiornamento che non è quello definitivo quello deve arrivare entro aprile però diciamo che è una specie di preverdetto comunque importante significativo perché la risposta è stata un no un fermo di vieto a questa acquisizione perché sostanzialmente secondo loro andrebbe proprio a violare le regole dell'antitrust e non solo a creare uno scenario competitivo e di mercato peggiore rispetto a quello attuale mettendo più potere nelle mani di uno e andando a danneggiare potenzialmente i consumatori e la loro facoltà di scelta fermo restando che lo sapete non ne facciamo mai una questione di tifo e non ci piace raccontare questa cosa come se fosse una una battaglia tra fazioni certamente è un semaforo diciamo tra il rosso e il giallo un arancione perché non è definitivamente un rosso anzi hanno detto comunque sono disponibili a parlare a vedere però il punto è per noi a queste condizioni questa acquisizione non si può fare ed è uno stop che arriva a seguito anche di quello dell'ente americano che si era espresso ftc mi pare si era espresso appunto negativamente al punto addirittura da passare da arrivare a denunciare microsoft perché della serie no siamo talmente contrari che non solo non decidiamo noi ma facciamo decidere un tribunale perché secondo noi questa cosa è proprio assolutamente scorretta la commissione europea anche aveva mandato un primo avvertimento comunque legato al fatto che così le cose non possono passare e diciamo che chiaramente nell'aria non ci sono segnali positivi in realtà ripeto l'ente britannico ha comunque detto che ci sono margini di manovra che microsoft intende in qualche maniera sfruttare il punto è che hanno suggerito delle ipotesi abbastanza singolari che sembrano anche un po denotare forse una conoscenza del mercato un filo superficiale nel senso che loro per esempio hanno detto questa cosa si si potrebbe fare se solo se levate call of duty dal dalla questione cioè della serie ok compratevi pure activision blizzard king ma vendete call of duty a qualcun altro oppure addirittura hanno parlato di vendere c'è l'intera blizzard per esempio o l'intera activision e blizzard insieme cioè della serie dovete scorporare le cose potete prendervi non tutto ma solo dei pezzi il punto è che chiaramente diventa problematica l'ipotesi in cui si prendono per esempio appunto activision blizzard e king ma call of duty poi lo vendono a qualcun altro perché di fatto call of duty non solo è fondamentalmente legato ad activision gli studi che lo sviluppano eccetera eccetera ma è uno degli asset fondamentali di tutta questa trattativa quindi ovviamente seguiranno degli aggiornamenti certo è che quest'ulteriore diciamo step che arriva dalla dall'inghilterra non è certo una notizia favorevole per microsoft bisognerà capire se e come questa cosa si farà ma mi sembra sempre più chiaro che sia impossibile che vengano rispettati se non i modi che comunque sono molto in come dire in dubbio di certo i tempi nel senso che questa cosa si doveva fare entro la fine di giugno considerando che siamo all'inizio di febbraio e che stanno arrivando risposte negative pesanti la vedo molto difficile che questa cosa possa risolversi appunto come inizialmente preventivato ve lo faremo sapere però mi raccomando voi continuate a seguirci qui in diretta qui tutti i giorni non in diretta in diretta su twitch in realtà se vi va dalle 10 alle 12 oppure qui in formato podcast quando riusciamo quando c'è modo di raccontarvi appunto gli aggiornamenti sull'andamento del mercato noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a idealmente domani ma speriamo chissà ciao grazie mille per l'ascolto e buona serata